E quindi Bad Company per tornare alla musica con la traccia che ha dato il titolo sia all'album che alla band esattamente, ovvero i grandissimi Bad Company direttamente dagli anni 70, ma questo flusso musicale viene subito interrotto da una prestigiosa presenza al nostro microfono, ovvero abbiamo Marco Brezza, un personaggio che ha per certi aspetti suonato delle cose molto importanti all'interno della musica etnica, musica jazz, nella realtà romana, ma non solo. Buonasera Marco. Buonasera a te carissimo. Allora questo progetto che si chiama Che l'è, che tu porti avanti con il mio maestro Alex Barberis e con Gaedano Ferrara, a un certo punto questo progetto arriva il primo febbraio al caffè del teatro parlando di resistenza jazz, ovvero a Porta Portese, in via Portuense 101, ma c'è tutto un discorso da fare prima di parlare proprio nello specifico del concerto, perché ho appunto sentito la vostra direttrice, nel senso popolare del termine, nel senso la vostra Presidente, che mi ha spiegato proprio di un consorzio tra le varie arti e i vari artisti musicisti che si sono agglomerati all'interno di questa R trattino esistenza, resistenza. Dici qualche cosa prima del progetto dei Che l'è, di questa cooperativa, chiamiamola così. Allora, inizio innanzitutto a parlare che cos'è resistenza jazz, resistenza jazz nasce quest'estate su iniziativa concordata da Daniela Morgia e altre persone, nel cui cominciava praticamente ad esserci un problema di coordinamento all'interno di quello che era tutto il mondo sotterraneo del jazz, considerato una situazione che quest'estate è stata abbastanza oscura da questo punto di vista. Da questa iniziativa praticamente alla fine si è pensata di fare tre serate, che hanno coinvolto più di 250 musicisti con tante persone nello spazio di eutropia, nell'ex macello... Ex macello di destaccio, uno spazio peraltro molto 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 bello. Esatto, esatto. Da quello sono nati una serie di incontri che hanno unito musicisti di varia provenienza, nonché tutte quante le scuole e vari operatori, diciamo, di chi si occupava di rassegna stampa, dalle varie scuole, da tutti quanti gli operatori, è quello di incominciare a presentarsi finalmente come una realtà unitaria. Quindi lo scopo di resistenza jazz è quello di promuovere, divulgare la musica jazz in tutte le sue declinazioni, in ogni contesto dove questo viene reso possibile. In questo caso il connubio che si è creato tra l'associazione introterra, il nostro collettivo associazioni e la collaborazione del teatro portacortese ha portato a questa realizzazione di questa prima mini rassegna, diciamo che porta finalmente in luce le motivazioni di questo collettivo. E collegandomi a quello che un attimo accennavi, ecco, non è che alle 19.30, diciamo, al caffè partiamo, alle 19.30 c'è un incontro pubblico dove parleremo tutti quanti al pubblico di cosa è resistenza che si possa praticamente intenzializzare prima dell'inizio della serata vera e propria, che inizierà, diciamo, con il mio gruppo, con il mio gruppo, con il mio gruppo di Chicago. Marco, Marco, mettiti in una posizione migliore perché ti stiamo perdendo, eh? Attenzione. Sì, ora ti senti bene? È sempre un pochino a rate, un tanto al mese, però proviamo un attimo, ecco. Ora? Adesso va meglio. Sì, poi... Niente, abbiamo dei evidenti problemi di linea, caro Marco. Che stai per caso a Porta Portese, stai dentro la sala prove, stai studiando, stai dando lezioni di batteria dentro le nostre sali piombate dove andiamo a fare musica. Ti senti ora? Sì, ti stai spostando, adesso ti senti nettamente meglio. Ci sei, ci sei, ti stiamo ascoltando molto bene. Pronto? Ci sei, perfetto. Vai così adesso alla grande, quindi ci sarà una sorta di incontro con la cittadinanza, chiamiamola così, che adesso va molto di moda. Fate un incontro con la cittadinanza e successivamente, diciamo, dalle nuove partono i concerti. Il concerto del mio gruppo, tra l'altro farà una sonorizzazione su immagini tratte da un famoso documentario, Baraka di Ron Friche, e successivamente ci sarà il quintetto di Antonio Apuzzo. Antonio Apuzzo Strike, canzoni di ieri. Antonio Apuzzo Strike. Songs of Yesterday, Today and Tomorrow. Esattamente. Quintetto che vede la presenza di vecchi compagni di avventure musicali e nuovi, come la cantante Costanza Leggiani, il batterista Michele Villetti, in programma a composizione di Apuzzo, Ornette Coleman, Charles Mingus e Gentle Giant. Insomma, niente male, si fa dal jazz alla progresso. Nel vostro caso invece voi, mi spiegava Alex, che fa dei pezzi propri, se non sbaglio. Noi abbiamo pensato invece di fare una sorta di suite musicale, che è una sorta di viaggio, in quanto adoperiamo, io sono un polistrumentista, quindi adoperò tutta una serie di cloud, di nonché i sassofoni e lui anche ha un arsenale, voglio dire, ricchissimo di sonorità anche digitali. E quindi presenteremo una sorta praticamente di suite sullo scorrere di queste immagini molto suggestive di Baraka, di Ron Frigge. Sì, schiacci un pochino più in maniera approfondita cos'è questo documentario, questa cosa che ha dato. È un documentario estremamente affascinante. Ron Frigge era stato in precedenza il direttore della fotografia di un altro famoso film che tutti quanti conosceranno, che è Cojani Scazzi, con le musiche famose di Philip Glass, insomma. Lui dopo praticamente quell'esperienza pensò di attuare un qualcosa di simile, però su tutta quanta un altro tipo di logica. c'è quella di raccontare quasi per immagine l'evoluzione della cultura e della vita sul nostro pianeta. Con tutto ciò che di quello appartiene, voglio dire, al nostro passato storico e prendenderlo per tutti quanti i tipi di culture che poi si sono sviluppate nell'arco del nostro pianeta, per cui dall'Africa all'Asia, all'Oceania, al Sud America, nonché anche, voglio dire, i paesi occidentali. In questo grande panorama, questo racconto per immagini, è come se poi viene fuori un trattato di antropologia culturale e per immagini anche superiore, voglio dire, di qualunque altro tipo di teoria, perché quantomeno vengono fuori dei contrasti che portano a delle similitudini pazzesche. Quella che è una certa struttura sociale delle megalopoli o a dei sistemi di sfruttamento che abbiamo adottato, ad esempio, sugli animali o nella gestione, voglio dire, di risorse come la foresta amazonica. E questo anche per dare, voglio dire, un tipo di messaggio culturale pregnante, cioè che la cultura non è soltanto il far arte, ma anche rispetto a come ci poniamo davanti alla vita, a tutto ciò che praticamente è quello che chiamiamo diverso, diciamo, da noi. Benissimo, quindi questo appuntamento, ricordiamolo, è il primo di tre appuntamenti per quanto riguarda Resistenza Jazz Festival, che lei, Antonia Puzzo Strike, Quintet, il primo febbraio, che sarà domenica, quindi anche una data, secondo me, molto intelligente. Poi abbiamo l'altro appuntamento il 15 marzo con Giulia Sanzone Quartet e Rose Magic e poi il 26 aprile Resistenza Jazz Colletti. Il 26 aprile è perfetto, perché insomma è il giorno dopo del 25 aprile, quindi anche contestualizzato dal punto di vista storico in maniera perfetta, direi. Sì, 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 sì. Oltre a questo mi permetto di aggiungere una piccola cosa, perché il 23 febbraio e il 23 marzo, che sono fuori, diciamo, magari ci saranno altre due serate che Resistenza gestirà, dove ci saranno degli ensemble polimorfici, polimorfic ensemble, che insceneranno praticamente delle situazioni musicali molto suggestive e molto singolari e particolari, dove si alterneranno ensemble allargati, a piccoli organici, che creeranno, voglio dire, delle atmosfere musicali veramente interessanti. Benissimo, ricordiamo per chiudere, Marco, i vostri contatti per venirvi a cercare in rete? Sì, i nostri contatti, abbiamo la nostra pagina di Resistenza Jazz, dove comunichiamo tutti quanti, facciamo i comunicati ufficiali di tutte le nostre attività e di tutte le iniziative che promuoviamo. A livello personale ho la mia pagina Facebook, voglio dire, dove anche lì comunico tutti quanti i contatti, diciamo, sia personali che hanno a che fare con l'associazione e quindi c'è l'aggiornamento, diciamo, in tempo reale di tutte quante le iniziative che stiamo proponendo in questo periodo. Perfetto, quindi Marco Brezza, ricordiamolo, e poi Resistenza si scrive R-Medio Esistenza Jazz Festival, se no non lo troverete mai. Va bene, Marco? Grazie a te, Riccardo. Sicuramente. È stato un piacere, in bocca al lupo per tutto quanto, noi andiamo avanti con la programmazione e visto che si parla di musica buona quando si parla con Marco Brezza e si parla con Alex Barberis di musica eccellente, noi ci ascoltiamo qualcosa di Charles Mingus. Va bene? Questo è tutto per voi. Va benissimo. Grazie Marco, un bocca al lupo. Grazie, grazie, ciao. Grazie a tutti.